On this vote, the yeas are 417 and the nays are 10. The bill is passed. Chiesto e approvato dal Congresso americano. Dopo il Senato, anche la Camera nella notte a Washington ha approvato l'eccezionale stanziamento di 33 miliardi di dollari che il presidente Joe Biden aveva chiesto di approvare per sostenere l'Ucraina nel respingere l'invasore russo. La rapidità del provvedimento è stata agevolata dall'applicazione di una legge della Seconda Guerra Mondiale, la Landless Act del 1941, la quale consente di fornire armi a qualsiasi governo straniero, la cui difesa sia valutata vitale dal presidente per la difesa degli Stati Uniti. Allora la legge ha permesso agli americani di fornire armi ai britannici per contrastare Hitler. Adesso ha consentito di stanziare 33 miliardi di dollari per l'Ucraina, di cui 20 per gli aiuti militari. Non stiamo attaccando la Russia, ma stiamo aiutando l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa, ha ribadito il presidente degli Stati Uniti. Sono grato al popolo americano e personalmente al presidente Biden, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, specificando che nel nuovo pacchetto sono previsti più di 8 miliardi di dollari per il sostegno economico. Altri 3 miliardi di dollari andranno agli aiuti umanitari. La stampa americana ha fatto notare che la guerra in Ucraina sta costando agli Stati Uniti più di quella in Afghanistan. Inoltre il robusto stanziamento è il segno che Biden, nonostante l'economia americana stia dando segni negativi, comunque vuole un approccio sempre più aggressivo nella guerra in Ucraina.